Ciao a tutti, oggi vi volevo parlare di questo quadro famosissimo di Antonello da Messina annunciata, esposto a Palazzo Abatellis a Palermo, è un dipinto icona, è un dipinto che tutti conoscono, anche se magari qualcuno non sa che è di Antonello da Messina o non ne ricorda l'origine, non ne ricorda la storia, ma è un dipinto incredibile per tantissimi motivi. Allora prima di tutto Antonello riprende il tema dell'annunciata, quindi dell'annunciazione che aveva realizzato in un'altra forma, ma che qui è completamente diverso dal precedente, cioè il soggetto è sempre la Madonna che riceve il messaggio da parte dell'angelo sul suo futuro lo scopo, quello di dare alla luce Gesù Cristo, mentre nell'altro dipinto è ripresa in un momento di stupore, di paura e contemporaneamente anche di calma, ma la calma sta arrivando mentre lei prende coscienza di quello che le sta accadendo, qui invece è in una condizione completamente diversa. È già calma, con una mano si chiude il mantello e con l'altra, una mano meravigliosa, fa un gesto che insieme è un gesto di consapevolezza, di accettazione del messaggio che sta ricevendo, è come se fosse in qualche modo ritirata su se stessa, concentrata su ciò che è stato detto e su ciò che dovrà fare. In un certo qual modo sembra quasi già in un mondo diverso, in un mondo spirituale che non ci appartiene, a noi vivi che la osserviamo, è già santa, è già qualcosa di soprannaturale. Tutti gli accorgimenti stilistici rendono il quadro un capolavoro assoluto, possiamo vedere lo scrittoio su cui è appoggiato il libro, in parte aperto, lo scrittoio che crea profondità bucando quasi la tela, ovviamente lo sfondo nero che è una caratteristica del nero da vessino, la perfezione del velo, il volto che richiama il San Sebastiano per la sua perfezione geometrica, i dettagli dello sguardo, degli occhi, della bocca e ovviamente anche la posizione del velo che si chiude qui creando un triangolo. Sono tutte nozioni che si parlano osservando il dipinto, ma l'emozione che si prova nel rendersi conto di trovarsi di fronte a un capolavoro che in qualche modo ferma in un secondo un evento straordinario che noi conosciamo, immortale, che è l'Annunciazione e lo rende profondamente vivo, con una luce che Antonello sceglie per dare al personaggio un carattere di vitalità e contemporaneamente anche un carattere soprannaturale, perché questa luce illumina il volto ma prevede la presenza dell'angelo che si è manifestato per dare questa informazione fondamentale a Maria, non lo vediamo ma lo intuiamo grazie a questa luce e proprio questa luce trasforma il personaggio dipinto in un personaggio vivo, in un personaggio che ci comunica la sua realtà, la sua vitalità, la sua forza, anche in una posizione ferma che però grazie la mano che sembra muoversi, è una posizione narrativa perché sta respingendo in qualche modo il timore di quello che vede e contemporaneamente lo sta accettando con un equilibrio nel volto spirituale straordinario che è comunicato solo ed esclusivamente attraverso la posizione della mano, delle dita che in qualche modo si stanno inarcando, il gesto della mano che proprio mostra come si sta spostando in un certo qual senso in risposta alla chiamata che sta ricevendo. In questo senso è un quadro straordinariamente perfetto ma in questo senso anche è un quadro che spinge a un pensiero che si lega a sua volta ad altri pensieri su il miracolo dell'annunciazione e sul ruolo incredibile, potentissimo, fondamentale della maternità di Maria. Se volete avere altre informazioni su Antonio da Messina potete andare sul sito biografiaonline.it dove trovate tutta la sua opera.